Nella lotta al terrorismo l'opzione militare non serve se non c'è una strategia per il dopo, continua a ripetere il Premier Renzi, ma per fermare il terrorismo in Europa bisogna usare anche armi culturali, bisogna investire sulla cultura nelle periferie. Benvenuti a Tiziana Bruno, sceneggiatrice collegata da Napoli e a Giuseppe Guida, disegnatore collegato da Bari. Buonasera. Tiziana Bruno, si parla molto in questi giorni di periferie d'Europa come luoghi in cui la violenza e gli estremismi si diffondono. Lei conosce bene alcune periferie italiane, in particolare un luogo che non ha, diciamo che le periferie italiane non sono così a rischio come quelle europee, come Molenbeek, come Le Balie, però insomma ci sono luoghi molto difficili come Scampia. Conosce bene Scampia perché è tra gli organizzatori di un festival letterario proprio lì? Sì, io per conto del ICWA, che è l'Associazione Italiana Scrittori per Ragazzi, organizzo da due anni un festival di letteratura appunto per ragazzi e diciamo il nostro obiettivo è quello di portare la lettura là dove fa fatica ad arrivare, quindi nelle scuole di Scampia ma anche nelle strade, nei centri di accoglienza, siamo andati anche nelle vele, direttamente nelle vele a portare narrazione, storie, libri, lettura e quindi attraverso questi momenti di organizzazione del festival ho potuto approfondire la conoscenza di Scampia. C'ero già stata altre volte, sempre come autrice, come scrittrice, ma in questo periodo devo dire che ho conosciuto anche un'altra faccia di Scampia, quella che conosci soltanto se ci vivi dentro per un po'. Faccia di Scampia dall'interno? Sì, dall'interno ho conosciuto quegli aspetti di cui poco si parla, molto poco si parla, sono gli aspetti anche belli di Scampia, uniti chiaramente a quelli disdicevoli, quelli di cui già si parla tantissimo e si fa tanto rumore, se ne dicono di tutti i colori di Scampia. In effetti è vero, Scampia ha delle problematiche notevoli che tutti conosciamo, non c'è bisogno di ripeterle, ma Scampia ha anche delle bellezze al suo interno e la bellezza principale secondo me di Scampia sono i bambini, i ragazzi con cui noi ci siamo confrontati come autori, come scrittori, da due anni lo stiamo facendo e continueremo a farlo perché il nostro è un progetto permanente che si chiama appunto Scampia Storytelling perché vorremmo raccontare la Scampia diversa, quella di cui non si parla mai, quella bella anche, quella che dà speranza e vorremmo raccontarla insieme ai ragazzi. La speranza Scampia la può portare anche un libro trovato in mezzo a un prato, Giuseppe Guida, Scampia Storytelling, immagini di futuro, sono fumetti, è un libro, chiamiamoli così nel senso più alto del termine perché abbiamo imparato a conoscere l'arte che c'è nel disegno dei fumetti. Che storia è? Che storia ha disegnato? Sì, la storia, ho illustrato questo libro a fumetti per la notte sedizioni grazie appunto alla sceneggiatura di Tiziana Bruno e alle poesie di Roberto Piumini. Anche io non sono napoletano ma ho notato in Scampia un'atmosfera un po' particolare, quella di raccontare poi in un fumetto, nel mio lavoro, nella mia passione quello che è il mondo delle periferie, come Scampia, ma tantissime periferie del mondo. illustrare una periferia è una serie di emozioni, una serie di aspetti che forse da fuori non te ne accorgi e quindi in questo fumetto io ho cercato di rappresentare quella che è l'armonia, quella che è la passione non solo di Emanuele Cerullo che è il personaggio del fumetto, di questa storia, di questa avventura ma è anche il gatto Totone, il gatto che accompagna Emanuele nel futuro. Quindi immaginando una Scampia del futuro legata anche a quella che può essere un futuro migliore non solo per Scampia ma per tutte le periferie d'Italia. È d'accordo Guida che per evitare, insomma, per limitare il rischio di violenze e addirittura appunto di fondamentalismi nelle periferie, anche quelle italiane, sia fondamentale dare un senso di cultura, dare una chance, un'opportunità ai ragazzi che vivono in questi posti difficili? Assolutamente sì. Io proprio a Scampia ho fatto laboratorio nella scuola media Sandro Pertini e ho avuto a che fare con un ragazzo di Scampia che inizialmente non voleva seguire quello che era il laboratorio realizzando un personaggio dei fumetti ma che poi da solo si è avvicinato e mi ha chiesto diverse informazioni. Quindi il fumetto è una fonte di comunicazione importante, leggere le letture ma utilizzare la propria fantasia quindi anche in quei ragazzi che magari hanno delle sofferenze, hanno delle vite turbate. Secondo me il fumetto, non lo dico io, ma insomma il fumetto è un qualcosa che comunica al di là che può essere lo scritto. Perché il fumetto è molto impegnato anche ultimamente, vero? Abbastanza, insomma. Il fumetto in Italia sta respirando tantissimo. Forse ci sono stati dei momenti che si leggeva poco. Invece oggi il fumetto attraverso anche la graphic novel, quindi questo rappresentare a fumetti la vita sociale, i problemi sociali. In qualche modo ci fanno anche evadere, se vogliamo, da quella che è la vita turbolenta che poi un po' tutti ci affrettiamo a vivere. Io lo utilizzo come metodo di studio nelle scuole e funziona sempre. Diziana Bruno, l'ultima domanda volevo farla a lei. Come lo vede il futuro di Scampia ma anche il futuro delle periferie italiane? Ma il futuro dipende sostanzialmente da noi, nel senso che è qualcosa che dobbiamo costruire, non esiste il futuro. Dobbiamo costruirlo noi e quindi il nostro impegno quotidiano ha un peso importante in questo. Innanzitutto bisogna crederci, proprio oggi abbiamo avuto un incontro con dei bambini della scuola Eugenio Montale di Scampia, sempre nell'ambito delle festival Scampia Storytelling, in cui abbiamo presentato questo libro e parlavamo proprio di futuro, di come è possibile costruirlo partendo dai nostri desideri, dalle speranze, anche dalle paure, dai timori, da quello che non vorremmo fosse più. E ascoltando la voce dei bambini penso che sia un buon sistema, un buon punto di partenza, quello di dare voce anche ai ragazzi, perché spesso i ragazzi non hanno voce. Se ne parla male, spesso male. Spesso i ragazzi non hanno voce, bisogna ascoltarli, ecco, perché loro parlano, saperli ascoltare. Scampia Storytelling, immagini di futuro, Rosa Tiziana Bruno e Giuseppe Guida, quelle poesie di Roberto Piumini, non lo dimentichiamo. Grazie, grazie per essere stati con noi. Grazie.